eccoci qui buon pomeriggio a tutti benvenuti a questo webinar organizzato dall'associazione brasiliana dei professori d'italiano in collaborazione con la casa editrice del scerbonacci siamo molto felici di avere con noi oggi il professore alessandro masi che ci parlerà del libro del manuale un viaggio con l'arte una recentissima pubblicazione di lo scerbonacci che sarà di sicuro di grande interesse per chi come noi si occupa di insegnare italiano e vi dico solo due parole che avrete sicuramente anche già letto sul sul professore che è storico dell'arte e segretario generale della società d'anti alighieri e docente presso l'università un nettuno e ulm e ha studiato l'arte italiana dal turismo alla pop art curato monografie ed esposizioni su artisti del novecento pubblicato molto su politica e legislazione delle arti una storia della letteratura futurista si è occupato di pittura romana degli anni sessanta e ha collaborato con diverse testate giornalistiche e palinsesti televisivi in ultimo terza pagina su rai 5 queste cose le avevate già lette io però ve le ho ripetute perché tutti sappiate auguro già intanto un dol benvenuto a tutte e a tutti abbiamo con noi il professore Antonio Mollica invitato dal professore Alessandro Masi accogliamo il benvenuto il Franco Cesati che è qui con noi e che adesso dirà due parole per salutarvi a nome della Leusche Bonacci c'è Gabriele Frigerio che è invece il il rappresentante della Leusche Bonacci qui in Brasile e quindi sappiate che poi per acquistare il libro vi potrete eventualmente rivolgere a lui come sapete tra la BP e la libreria italiana ISIB c'è un accordo per cui i soci ABP hanno sconti sulle pubblicazioni vendute dalla libreria e quindi io passerei subito la parola a Franco e immediatamente dopo cominceremo la presentazione del professor Alessandro Masi pensate durante la presentazione alle vostre domande se volete potete scriverle già nella chat oppure potete poi una volta finita la presentazione aprire il vostro microfono e fare le vostre domande perché abbiamo previsto uno spazio alla fine per il dibattito che è una delle cose più interessanti in una occasione come questa quindi Franco a te la parola Buon pomeriggio a tutti e grazie per questo spazio è il nostro secondo incontro con gli amici italianisti brasiliani ringrazio particolarmente Elisabetta Santoro la presidentessa dell'associazione e ovviamente il professor Alessandro Masi che scopro anche essere amico comune di tanti altri amici che saluto e ringrazio per la sua disponibilità il libro di oggi un libro molto particolare io in sede qui a Firenze perché io parlo da Firenze l'edizione cartacea che ho avuto modo di guardare leggere con un po' di attenzione e con grande curiosità perché percorre dieci itinerari dieci racconti molto affascinanti e con curiosità dicevo ho guardato le città che toccava scoprendo che ovviamente Firenze è ben e ampiamente rappresentata Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Pompei e Palermo nessuno più del professore può parlare sia d'arte che di lingua ci sono delle parole d'uso che sono molto particolari e che questo pomeriggio avrete modo di apprendere e di approfondire grazie ancora tutti noi abbiamo forse ancora un terzo incontro in futuro ma soprattutto saremo parte diligente al vostro al vostro congresso di ottobre vi auguro un buon pomeriggio un buon ascolto un buon apprendimento e a presto grazie grazie Franco e bene allora adesso professore la parola è sua mi dica quando comincio a condividere e io sono qui pronta a eseguire allora devi accendere il microfono però grazie Isabetta grazie all'amico Cesati sì io sono pronto allora una coppia di eh brasiliani nel capitolo dieci fa visita a Palermo alla cattedrale sono mari marito e moglie insomma sono appena sposati e si chiamano Mariana e Filippo vanno a Palermo e vengono da Rio de Janeiro eh li ho immaginati così li ho inventati così eh si amano molto vanno a Palermo e vanno a visitare la cattedrale così finisce il libro quindi potrei dire questa è la fine ma non c'è una fine perché non è un racconto con eh con con un giallo adesso è semplicemente una serie di incontri che diverse famiglie di diversi paesi si fanno in Italia dove li fanno li fanno in posti meravigliosi cioè si va si parte dai dai musei vaticani si va come ha detto Cesati ricordando le tappe a Pompei si va a Venezia si va a Torino si va in quelli che sono i luoghi della bellezza quindi il libro nasce come un itinerario della bellezza attraverso la lingua italiana molto spesso si dice che l'Italia conserva un patrimonio artistico tra i più importanti al mondo tra addirittura il settanta per cento dei beni culturali sono in Italia sono così categorie che io non amo molto però bisogna dire che l'Italia ha dei luoghi straordinari se noi immaginiamo che cos'è la piazza del campo a Siena dove si svolge il palio è straordinario se immaginiamo Venezia dove c'era la sfilata delle della regata storica è straordinario e insomma via discorrendo se immaginiamo Firenze ciò che è è straordinario però quando si è parlato in tutti questi anni di una di una specifica bellezza dell'idea dell'Italia che si ha non si è mai immaginato di costruire uno strumento che possa permettere a chi ama l'Italia di accostarsi al proprio patrimonio storico con degli strumenti linguistici e faccio un esempio perché tanti anni fa proprio a Siena io stavo organizzando con il comune un corso speciale per studenti americani che nella bellezza del Duomo avrebbero dovuto studiare con me delle tavole del 500 del 300 tavole a fondo oro del 1300 immaginate l'emozione per un ragazzo di stare di fronte a una pala di una Madonna fatta da Ambrogio Lorenzetti e parlare a due metri di distanza davanti a un'opera che ha 700 anni magari mi sono chiesto ma qualcuno poteva chiedermi ma come mai dopo 700 anni quei colori sono ancora così brillanti come se fossero stati dipinti ieri come mai quell'oro dei fondali è così vivace come se fosse stato lucidato ieri ci sono dei segreti ma questi segreti sono segreti tecnici giustamente che hanno però molta lingua italiana dietro ed è molto particolare perché se io dico che per preparare una tavola di tiglio il tiglio è un legno che viene usato nel medioevo e successivamente perché è un legno è un legno che non si piega facilmente quindi rimane e e devo mettere per la preparazione gesso di bologna e colla di coniglio per preparare una tempera all'uovo qualcuno avrebbe pensato che sto dando un menù cioè come la 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 tempera all'uovo che significa un nuovo speciale alla coc no 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 sono tecniche sono tecniche e il fatto che ci sia un richiamo a nomi così particolari come colla di coniglio colla di pesce non sono menù sono fanno parte di quello straordinario racconto delle tecniche che è il libro dell'arte di cennino cennini alla fine del 300 cento cennino cennini scrisse questo grande libro dell'arte ma sono anche parole che formano una base di un vocabolario specifico per alcuni tecnici ma in generale è un vocabolario che potrebbe essere anche ad uso di nuovi viaggiatori che vengono in italia armati di conoscenza almeno delle parole base per poter eh trattenersi di fronte non so alla primavera del botticelli e poter eh avere degli strumenti per parlare perché se qualcuno gli dice che la pittura eh cinquecentesca o secentesca è una pittura a olio eh non stiamo parlando dell'olio di semi o l'olio fritto stiamo parlando di di tecniche che fanno parte del linguaggio dell'arte l'arte in italia dovete sapere che ha dato molto eh molto al vocabolario italiano vocabolario della crusca ne riporta tantissime di queste parole ma sono parole che a distanza di settecento di ottocento anni hanno ancora la loro validità quindi fanno parte di un nostro immaginario quindi poterle rimettere all'interno di uno strumento didattico significava fare due operazioni la prima dare finalmente all'arte uno status di di dignità cioè quindi anche l'arte può essere oggetto di studio linguistico sì può esserlo perché noi diciamo sempre la musica l'architettura la moda il design la gastronomia diciamo l'arte ma l'arte poi non ha mai strumenti tra le altre cose io voglio preparare ma non io perché non sono specialista io ma chi chi è lo farà un libro in viaggio con la musica cioè tutte le parole della musica sono quelle parole che noi prestiamo al mondo della musica come allegro allegro ma non troppo andante andante veloce e quindi la contaminazione linguistica delle parole della musica nel nel settore di studio quelle dell'arte forse qualcuno le sa un po meno ma se io dico arco anfiteatro colonna foro i ruderi gli scavi qualcosa forse nella memoria collettiva c'è perché se parlo di foro romano tutti sanno che il foro romano è il luogo dove noi conserviamo le vestigia dell'antica roma e nella maniera che insomma tutti tutti conosciamo e così se io parlo di termini dell'architettura è bene che sappiamo sappiate che molti termini anche dell'architettura attuale di tutti i paesi hanno un origine italiana ma qui non stiamo facendo la classifica dei primati se l'italiano ha dato più parole al mondo dell'arte o ne ha date meno ne ha date sicuramente tante e allora diciamo questo libro vuole essere intanto una un primo documento che codifichi lo status dell'arte come disciplina di studio nell'ambito linguistico tra le altre cose si sta preparando come d'antarighieri anche una certificazione per l'italiano per l'arte questo significa che poi si potrà andare a proseguire i propri studi in italia presso l'istituto centrale del restauro o ormai avete visto anche molti direttori dei musei italiani sono stranieri molti operatori che lavorano in italia sono stranieri molti studenti che vengono in italia io faccio riferimento al sistema afam che è il sistema delle accademie dei conservatori che ormai recepiscono una popolazione scolastica straniera molto alta primi i cinesi che stanno arrivando in gran massa ma molti altri sono gli studenti stranieri che da tutte le parti del mondo vengono a studiare il nostro patrimonio artistico patrimonio artistico ripeto e patrimonio linguistico io volevo darvi se risabetta è così gentile di di aiutarmi ho provato qualche slide ma giusto per per vedere un po quali sono i dati del nostro patrimonio perché questo spiega anche come il viaggiare con l'arte in italia sia in qualche maniera legato anche ai numeri e l'italia e l'arte che la seconda slide che ve lo faccio vedere vi da proprio questo questo lo abbiamo già detto no no l'italia e l'arte l'italia e l'arte eccolo qua guardate in italia ci sono 3882 musei gallerie o collezioni pubbliche e private per un paese che è lungo più o meno 1500 chilometri quindi non è tanto è largo poco più di 300 chilometri è tantissima la concentrazione percentuale per area ci sono 327 aree o parchi archeologici 630 monumenti e complessi monumentali 69 eco musei 55 sono i siti unesco patrimonio dell'umanità sapete insomma non sono tantissimi al mondo farsi riconoscere dall'unesco un sito di dignità e ce ne vuole quindi in italia addirittura sono 55 i siti unesco il museo che cos'è in fondo è una raccolta di opere d'arte che hanno un interesse storico culturale quindi una concentrazione di strumentazione utile i monumenti che sono sono opere che si collocano in aree pubbliche per ricordare celebrare persone senza entrare nelle polemiche di questi ultimi mesi su sui monumenti però il monumento in generale è qualcosa che commemora che è d'accordo noi chiamiamo in italia città d'arte quelle che sono città particolarmente ricche di beni culturali ma guardate che sapete benissimo in italia anche un piccolo paesino dell'appennino dell'abruzzo ha sicuramente una una cattedrale ha sicuramente delle tele azioni delle sculture e pensate ancora quanto patrimonio artistico all'italia nonostante le le depredazioni che ci sono state nei secoli dalla caduta dell'impero romano fino a napoleone fino allo stesso hitler che ha portato via vagoni interi di treni di opere d'arte quanto è stata derubata l'italia eppure quanto l'italia ancora ha in termini di patrimonio artistico e infatti se andiamo a vedere un po questo patrimonio artistico genera anche turismo nella prossima slide se mettiamo la prossima slide lo vediamo ma ci siamo bloccati Elisabetta forse siamo bloccati sei senza voce un secondo sì no un secondo se era bloccato non andava avanti riprovo non so perché che cosa gli è successo perché ecco ecco qui ecco qualche idea sui numeri del turismo sono una una cosa molto molto importante perché l'italia vive su questa base quindi pensate quanti operatori turistici che in qualche maniera devono fare da mediatori linguistici con le migliaia e milioni di persone che arrivano in Italia quindi a volte noi abbiamo avuto problemi anche con proprio tutto il settore che non era spesso organizzato eh sia nella conoscenza di base perché poi solo qui a Roma ogni giorno adesso con la pandemia ci siamo un po' fermati adesso vedremo anche i dati della pandemia ma ogni giorno a Roma quindi qui mediamente io siamo siamo al centro di Roma passano centinaia di ehm di operatori turistici con gruppi che insegnano che spiegano che dicono quindi è un'economia molto forte e soprattutto poi sono molti di stranieri che vogliono venire in Italia conoscendo anche qualche loro parola eh del patrimonio artistico quindi se vediamo i dati della pandemia cioè quella successiva Elisabetta non so che succede ma non mi va non mi va avanti ma no non va avanti eh no vediamo allora vediamo se riusciamo a fare come prima scende ecco 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 eh guardate qua per esempio nei giorni mesi di marzo aprile e maggio duemila e venti è stata stimata la mancata a Florenza di quasi diciannove milioni di visitatori e il mancato in casco di settantotto milioni di euro cioè in tutto il duemila e venti sono andati versi centottantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant si occupa di politiche linguistiche questi dati sono invece preziosissimi perché danno la misura di come poi l'andamento di studio, l'andamento di interesse, l'andamento di produzione possa più o meno determinare un interesse da parte di chi si avvicina al nostro patrimonio culturale perché poi noi abbiamo, dividiamo un po' chi sono interessati all'Italia, una parte adesso con il B1 cittadinanza sono tutti quelli che fanno richiesta di cittadinanza italiana, una parte sono operatori che lavorano in Italia, soprattutto in rappresentanza diplomatica o in Vaticano che è un altro aspetto importantissimo, ma molti sono quelli che vengono in Italia magari per un breve periodo ma che comunque amano conoscere un po' la lingua italiana, questo spesso mi succede quando ricevo qui in Palazzo Firenze delle delegazioni che mi dicono appunto che loro amano venire in Italia, fare delle compere a Milano di modo o di altro e amano così conoscere un po' di lingua italiana, tante, quindi diciamo noi andiamo su tutte le diverse strutture di... e poi ci sono gli studenti, questi studenti che con i progetti che stiamo realizzando con il ministro della ricerca scientifica di scambio sono un'altra parte importante, interessante, quindi offrire questo questo spaccato era era fondamentale per per il lavoro. Non so se vogliamo andare avanti, se ci riesce ancora, entriamo un po' nel vivo del dell'argomento. Ecco questi sono i trend prima del Covid, guardate i dati anche nel Brasile, sono stati abbastanza significativi, siamo a variazioni molto basse. Vediamo il viaggio con l'arte, magari ci stiamo avvicinando un po' verso la fine. Ecco, il viaggio con l'arte si rivolge quindi principalmente agli studenti stranieri che vogliono intraprendere un percorso di studi di tipo artistico presso le università, le accademie e le scuole del design. Ecco questo è quello che vi dicevo prima, è il sistema AFAM. Noi per questi sistemi di studio abbiamo realizzato anche un piano curricolare che tra un po' pubblicheremo sul nostro sito Dante Global, dove per chi è interessato a sapere quali sono i principi di un insegnamento per il sistema conservatorio e belle arti, noi lo abbiamo già prodotto per il Ministero. I suoi contenuti sono tuttavia fruibili da un pubblico più ampio di appassionati d'arte amanti dell'Italia e del patrimonio artistico, come abbiamo detto prima, perché è un libro che comunque si legge, si legge, si vede pure, perché comunque per la prima volta è un libro fatto a fumetti per immagini. Il libro è stato pensato per studenti o più genericamente apprendenti, la cui competenza linguistica si colla tra i livelli B1 e C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Sono dieci percorsi tematici nel mondo dell'arte e della cultura artistica italiana che aiutano ad apprendere la terminologia settoriale e propongono spunti per la composizione di elaborati scritti e per le esposizioni orali richieste, ad esempio nei corsi universitari e accademici. Ogni percorso si compone di tre sezioni articolate in maniera stratificata in modo da poter essere fluida a più livelli di analisi e di approfondimento. Un racconto di viaggio, l'arte delle parole, la lingua dell'arte. Questo è un po' il senso. Adesso se noi stacchiamo da questo primo powerpoint e se Elisabetta sei così gentile da farci vedere, ecco vi do intanto l'indice. C'è un primo capitolo che è dedicato ai Musei Vaticani, un secondo capitolo si va in uno studio di artista. Vedete che ogni volta ha una famiglia diversa. Chi va ai Musei Vaticani è una famiglia argentina. Dallo studio, dall'atelier di un artista c'è un artista francese, andrà a trovare il suo collega. Agli uffizi c'andranno dei tedeschi. A Firenze ancora nel laboratorio di restauro c'andrà un egiziano interessato al restauro. A Bologna c'andranno tre studenti cinesi che vogliono imparare delle tecniche artistiche. A Milano invece c'è un consulente artistico russo pieno di soldi che va a una partecipa a una battuta d'asta perché poi i russi stanno comprando tutto quindi andranno a comprare anche delle opere d'arte. Nel capitolo 7 a Venezia ci va un architetto australiano un po' romantico perché vuole capire come funziona la biennale. Per le strade di Torino ci vanno degli americani. Così ho immaginato che la razionalità della città di Torino fosse anche vicino allo spito americano. Eh degli spagnoli vanno a Pompei e infine come dicevo chiudono i brasiliani che arrivano a Palermo perché eh vogliono visitare la cattedrale dove tra l'altro voi sapete sono conservate le le tombe di Federico di sua madre di Costanza d'Altavilla in Porfido Imperiale. Se vediamo un po' il libro invece la struttura del libro magari possiamo entrare un po' in media res come dicono i latini. Potremmo far vedere il primo capitolo come funziona come ho immaginato il libro ecco così magari entriamo nella tecnica del libro stesso. No, il primo capitolo del libro. Ecco qui no? Nel libro che è arrivato da me. No, a noi riusciamo a vedere soltanto il racconto di viaggio. Allora aspettate che ricomincio. Bisogna andare sul... No, 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 era che c'era un problema che con la condivisione. Ecco qua. Adesso? Ecco. Come l'ho immaginato il libro? L'ho immaginato che una mattina una famiglia, una coppia con due figli argentini arrivano a Roma, fanno una bella colazione e Paolo e Santiago scendono a vedere i musei vaticani. finalmente dopo tanto tempo lui è un manager delle comunicazioni, lei è un insegnante di letteratura, sua moglie Pilar che è amante, aveva la passione per la pittura e dipinge anche quindi ha trasmesso questa sua passione ai figli e quindi il libro io, se vediamo pagina due, lo faccio diventare un fumetto vero e proprio. Ecco, come vedete è un modo così, un po' innovativo, non so, magari io immagino che sia innovativo fare una didattica anche così per immagini, ma in fondo le immagini danno il senso delle cose e come vedete ci sono dei dialoghi ma c'è anche, ci sono delle parole, no? Queste parole sono messe in rosso. In altro c'è scritto quando la famiglia arriva a destinazione non rimane sorpresa da una lunghissima coda, coda, che si è creata davanti all'ingresso dei musei. Per questo motivo l'agenzia che ha organizzato il loro viaggio ha provveduto già da tempo alla prenotazione dei biglietti, con questa si regano direttamente in biglietteria. Allora queste parole sono tecniche sì, ma sono parole che noi conosciamo pure e se vedete queste parole che poi troverete nel rosso durante la visita che Pilar e sua moglie e suo marito fanno nel nel museo formano all'insieme nell'insieme altre cose, cioè che cosa formano? Intanto andiamo alla fine del fumetto e come vedete c'è già un primo eserciziario, l'arte delle parole, cioè dire la stessa cosa è molto diverso. mi dica, mi dica, mi dica. Leggi le parole e trova le stesse cose di successo, famoso, noto, stimato, quindi c'è tutta una cosa. Cioè si risponde bene? Aspettate che c'è qualcuno che ha il microfono aperto, che io adesso non riesco a capire chi è. se potete scendere i microfoni. Anna Maria. Ecco, l'ho trovata. Scusatemi perché qui con la condivisione, le persone, non è facile seguire tutto. Quindi segue un eserciziario nelle pagine successive ancora e andiamo poi al termine del capitolo dove poi ho messo invece le parole. Allora, quelle parole che voi avete trovato in rosso, voi ve le troverete spiegate qui. Cioè, caffetteria, audioguida, allestimento, coda. Ad esempio coda, io ho scritto al museo la coda non è quella degli animali. Capita spesso quando si vuole visitare un museo o un monumento molto famoso o vedere una mostra d'arte di grande attrazione di trovarci circondati da tante altre persone che hanno avuto la nostra stessa idea. All'ingresso alla biglietteria del museo si formerà una lunga fila di visitatori, coda, che noi chiamiamo coda, eccetera, eccetera, e spieghiamo un po' perché. Poi dopo ci sono parole più tecniche perché se noi andiamo alla parola, ad esempio, pannello, pannello, già comincia ad essere una terminologia tecnica, cioè il pannello, dal latino pannellus, ossia panno, durante la visita di un museo una mostra e incontreremo spesso dei cartelli di grandezza variabile che si distinguono dalle più piccole delle scale. Sono pannelli esplicativi. Il pannello è, può essere la parte in cui vengono descritti i particolari del quadro, il pannello può essere, insomma, lo stesso appoggio dove si mette il quadro, ma quello fa parte della parola allestimento. Allora dobbiamo tornare indietro e vedere la parola allestimento. Ecco, allestimento, partendo dall'etimologia che è molto importante del termine, è un francesismo, non sto qui, e l'allestimento spiega, è un modo in cui le opere d'arte vengono sistemate e presentate in un museo. Come vedete, mi sono preoccupato di dare, e poi più andiamo avanti nei capitoli, più i termini saranno tecnici, di dare la possibilità di, così, di avere un minimo, un minimo di, di, di viaggio, di, 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 come si può dire, di interesse, di nozioni, affinché poi si possa andare avanti conoscendo sempre più il mondo dell'arte. Come vedete nel secondo capitolo, l'artista francese va in un atelier e nell'atelier invece affronterà, anche qui c'è un fumetto, come vedete successivamente, incontra l'artista, parlano, guardate, ci sono degli strumenti sul tavolo, sono tutti strumenti artistici. Via Margutta è una delle vie romane storiche dove si trovano tutti, si trovavano tutti gli studi degli artisti, perché ormai in Roma tanti studi ormai hanno chiuso per far posto a negozi della moda, comunque ancora una via di grande fascino e poi successivamente anche qui c'è un eserciziario e via via troverete anche le stesse parole che in questo caso sono attinenti al contesto in cui noi abbiamo sentito parlare degli interessati. Ecco, questo è un po' il senso del libro, questo è un po' lo strumento che per la prima volta viene realizzato in Italia perché poi si fa tanto parlare di arte italiana, di lingua, dei linguaggi dell'arte e poi in realtà mi sono accorto che in tutti questi anni non ho mai visto realizzare un libro d'arte per didattica. Ho scritto tanti libri saggi sulla storia dell'arte italiana ma anch'io non avevo mai affrontato un tema così delicato come quello di poter realizzare un manuale che dia almeno la possibilità di studiare l'arte attraverso la lingua italiana o studiare se si vuole la lingua italiana attraverso l'arte, quindi l'ingresso è bionivoco. Io penso che con questo ho illustrato un po' il mio pensiero, se ci sono poi osservazioni, domande, sono a completa disposizione. Benissimo. Allora, ringrazio il professor Masi. Abbiamo adesso tutti un'idea più chiara di qual è, di che cosa ci aspetta in questo libro e adesso abbiamo tempo per le domande, abbiamo tempo per le domande e poi come ho detto già in chat per il sorteggio finale di quattro accessi al libro digitale. Vediamo se qualcuno ha già scritto magari qualcosa, no, non c'è ancora nessuna domanda nella chat, ma se qualcuno volesse per caso intervenire basta che me lo segnali in qualche modo, può alzare la mano, con le reactions, può semplicemente aprire il microfono e parlare. Non c'è nessuno. Vai Gabriele. Salve, buon pomeriggio a tutti, buonasera per chi sta in Italia. Mi sembra di aver capito che dall'esposizione è che quindi il grande obiettivo di questo libro, da un punto di vista, vedendolo soltanto nell'ottica di chi sta insegnando italiano straniero, sia principalmente lessicale, giusto? O mi sbaglio? Sì. Fondamentalmente un lessicale e dall'altro lato attraverso questo lavoro lessicale anche approfittare per dare, mi sembra di capire, anche dei contenuti culturali specifici, giusto? Esattamente, esattamente, questo è esatto, la riflessione giustissima, è lessicale, c'è la mia preoccupazione era dare un sacchetto di viaggio utile per il Grand Tour del 2021, sapete che in Italia sono venuti dal settecento in poi con il viaggio di Gator e gli altri, c'è stata l'idea del Grand Tour, quindi dal nord Europa si scendeva in Italia perché l'Italia poi, che non era proprio l'obiettivo, perché poi si passava attraverso l'Italia per poi finire in Grecia, perché la Grecia poi era il vero obiettivo del Grand Tour, però tantissimi di questi artisti poi si fermavano in Italia colti dalla bellezza, dalla sindrome di Stendhal. Pensate che c'è un bellissimo documento inedito di un artista che io ho cercato di far pubblicare con tutti i suoi disegni ed è alla Biblioteca di Palermo, la Biblioteca nazionale di Palermo, che mai sarà pubblicato, rimarrà lì, è un originale di questo artista danese che si chiama John Hart Stratz, che venne in Italia e a piedi si fece tutta la costa italiana fino alla Calabria, dipingendo delle tavole meravigliose e scrivendo e raccontando questo suo Grand Tour. Le parole raccolte in questo scritto di John Hart Stratz, che sono poi in italiano, lui scrisse in italiano queste sue riflessioni, è un patrimonio bellissimo, ecco, in fondo ho pensato che questo libro può essere una sorta di vademecum per il nuovo turista, ma non turista nel senso dozzinale, cioè colui che fa il tour, che fa il grande viaggio in Italia, ecco, in fondo questo libro è un po' una sorta di viatico che dia la possibilità almeno di affrontare, io vi dico i dieci grandi monumenti, poi ovviamente, eh, caro Gabriele, mi sono messo contro tutta l'Italia, perché hai messo Pompei, perché non ci hai messo Capodimonte, ah, non hai messo Palermo, non hai messo Selinunte, perché hai messo solo Cattellate di Palermo, cioè avrei dovuto scrivere la Divina Commedia, perché poi insomma in Italia solo Roma, perché sono i Vaticani che poi non sono italiani, sono del Vaticano, potevi mettere i Capitolini, potevi mettere l'archeologico, potevi mettere fuori, eh, ragazzi, ho insomma fatto quello che potevo fare e lei non me avrebbe mai pubblicato un volume di trecento pagine, insomma, mi sono scelte, però diciamo che in fondo è divertente, perché io do la possibilità a chi ama il patrimonio artistico italiano, che è patrimonio italiano, ma io direi che è un patrimonio mondiale di tutti, così di poter accedere a questa bellezza con qualche strumento in più, con qualche parolino in più, se ne torna poi al proprio paese, con la conoscenza di cento parole in più che prima non conosceva, quindi quando dice tempera all'uovo agli amici non gli sta dando una ricetta di cucina, ma sta dicendo una grande tecnica che affonda nei tempi di Giotto, nel 1300, voi sapete qual è la tempera all'uovo? La tempera all'uovo è fatta così, si prende l'uovo, la parte rossa dell'uovo, del torlo, sbattuto, lo si mischia con con le con le terre, fai conto la terra blu oltre il mare e diciamo quando poi con il pennello mischi, questa miscela messa sulla tela, messa sulla tavola, ha il pregio di rimanere brillante per secoli. Allora voi immaginate, quando Van Gogh ha dipinto i suoi dipinti che noi sappiamo bellissimi, fatti di colori. Voi sapete che in Olanda i colori, siccome già avevano base chimica dei tubetti di colore Van Gogh, stanno cedendo, cioè i gialli stanno diventando marroni, infatti li stanno tenendo preservati perché la decadenza chimica dell'elemento ha portato alla morte del colore. Noi parliamo di opere invece che hanno duemila anni, cinquecento anni, settecento anni, che non hanno mosso un grado di colore, perché sono tecniche naturali. La colla di pesce è fatta appunto con con il pesce proprio, perché il pesce ha una parte collosa, se voi lo sentite, ma anche lo stesso coniglio, se qualcuno di voi mangia il coniglio a scotta dito, un po' le mani rimangono appiccicate perché la pelle stessa del coniglio ha una sostanza resinosa che è così la resina degli alberi, così. Pensate quindi quanto è bello anche da un punto di vista così vegetale, noi siamo sempre attenti all'ambiente, ma pensate quanto questa arte fosse già di per sé naturalista, perché non toccava niente di chimico, toccava tutto naturale. E quindi quando si dice parole come colla di coniglio, colla di pesce, gesso di bologna e via discorrendo, non è un menù, ma è una tecnica artistica. Anche questo di per sé ha un grande valore culturale, se ne vogliamo parlare. Sì, adesso c'è un'altra domanda, Raffaele. Buonasera, professor Masi, se mi sente. Benissimo. Grazie della presentazione. Ho visto che sulla pagina dei fumeti c'è una traccia audio. Qual è il contenuto di questa traccia? È lo stesso testo del dialogo dei fumeti o è è un contenuto che spiega un altro dettaglio? L'Escher ha messo anche una versione audio, adesso non ho mai così approfondita, però mi dicevano che stavano lavorando, una versione audio che credo si si possa accedere con con l'abbonamento. Mi sembra che siano in paglio quattro abbonamenti oggi Elisabetta? Sì, sì, sì. Sono online, no? Quattro accessi ai libri digitali, sì. Sì, dove c'è anche il tracciato audio. Lo potremmo... Che non ho fatto io. Spesso che non sono andata a sentirla. Male, male, male. Me l'hanno appena mandato, non ho fatto in tempo ad andare a guardare. Poi posso... Vabbè, allora una sorpresa, una sorpresa di chi vincerà sarà una sorpresa. Ma quindi forse sarà lo stesso, ci saranno, ci sarà probabilmente la registrazione degli stessi dialoghi che sono stati scritti, immagino. Sì, sì, sì. Lasciamo la sorpresa finale. Lasciamo la sorpresa. Benissimo. Quindi, professore, mi sto quindi pare che in questo momento ancora non ci sia nessun'altra domanda. Sì, forse... Sì. Buonasera a tutti. Prima, complimenti, il materiale è molto bello. Io sono una appassionata sia di arte che di viaggio e in fondo questo mi ha fatto studiare italiano. Volevo sapere se la scelta dei posti e delle opere, del contenuto, è stata in qualche modo... Qual è stato il criterio? C'è stato qualcosa di particolare, di specifica che le ha fatto scegliere queste opere, queste... questi posti in specifico? Allora, diciamo che, come dicevo prima, è stato un po' un problema, perché se tu ti poni di fare... il problema di fare un libro del genere, allora o fai una cosa simulata e non dici niente e questo mi avrebbe salvato, perché in un paese campanilista come l'Italia, dire di fare una città anziché l'altra crea dei problemi enormi, perché però in qualche maniera la scelta dovevo farla. Allora l'ho fatta sulla base delle città, cioè non si può non dire vai e non vai a andare in Sicilia. Allora magari in Sicilia posso mettere Sicilia a Piazza Armerina, Selinunte, Segesta, Cefalù, il Duomo di Monreale. Cioè se io mi metto solo a parlare della Sicilia avrei dovuto scrivere un volume di 800 pagine solo sull'arte siciliana. Quindi diciamo che sono andato per regioni, allora diciamo abbiamo messo la Sicilia come regione, poi avrei dovuto mettere forse Calabria e Puglia, i castelli di Federico II, che sono una cosa meravigliosa, ma parlare di castelli di Federico II, anche lì, oppure i bronzi di Riace, che sono meravigliosi, magari che ne so, se il libro avrà successo ne faremo un secondo, però sono andato però su Napoli. Napoli non poteva andare, non andare, è stata una grande capitale del mondo spagnolo, il regno delle sue Sicilie, cioè il re a Napoli e il vice re a Palermo, e Roma non potevano mettere, Firenze figuriamoci, Venezia, se non mettevo Venezia, almeno diciamo il minimo, come si dice in Italia, il minimo sindacale l'ho dovuto fare. La disponibilità del libro era quella che era, quindi in tutto sono mi sembra, circa ve lo dico, 140 pagine. Ah, 140. È molto fino fino fino, cioè perché io scrivo libri anche da 700 pagine, ma chi la legge un libro di 700 pagine? Ho creato uno strumento agile che può essere così, infilato dovunque, anche così sotto il braccio, uno cammina, perché poi il fine, qualcuno ha scritto una cosa molto intelligente nei commenti, il fine ultimo degli studenti è andare a fare il giro in Italia, perché questo piace, piace venire in Italia, stare in un periodo in una città molto bella, gustarsi il patrimonio, magari la sera fare un po' di di struscio, come si dice, camminare un po' in centro, versi una pericena e gustarsi queste bellissime realtà che sono le architetture di una città come Firenze, immaginate Roma, il barocco romano, che cos'è la grandezza del barocco romano, voi immaginate che un libro può essere fatto sotto la lanterna di Santiva la Sapienza del Borromini, che è uno strumento architettonico straordinario perché è una, è un trapano, è una vite che si aggancia al cielo, cioè è veramente l'esaltazione divina dell'uomo che può andare verso Dio, allora immaginate che per secoli questa, questa idea di un'architettura che si abita allo spazio, che arriva fino a Dio, è stata vista dai principi, ma anche dai poveri, dai carrettieri, come dai soldati, in qualche maniera ha influenzato l'essere italiano, lo stile, cioè noi perché diciamo siamo bravi nel design, ma non poteva non essere il genio italiano nel design mancante, perché ha avuto un'educazione visiva molto particolare. Platone, il filosofo Platone, dice che la formazione dell'occhio è fondamentale, quindi senza scomodare adesso Platone, però c'è una scienza della visione che porta a una scienza dell'educazione. La parola per me doveva diventare, diciamo, un ponte, un passaggio tra quello che è l'immaginario nostro e quello che noi vediamo. La parola ci lega, perché dà una spiegazione a ciò che vediamo, da un senso a ciò che vediamo, un significato a ciò che vediamo. Ok, abbiamo un'altra domanda, Carina? Sì, è più una curiosità direi, o alcune curiosità. Da quanto abbiamo potuto vedere la prima unità, no? Mi sa che più o meno un glossario, un mini glossario, un mini dizionario dentro di un libro didattico per il turismo, no? Vorrei sapere quante parole lei ha raccolto, quanti lemi e se c'è stato un criterio per fare le loro definizioni dalla prima unità all'ultima, dato che abbiamo potuto vedere soltanto la prima, allora è una curiosità dal punto di vista proprio lessicografico, diciamo. Guarda, allora ogni capitolo porta dieci parole, sono dieci capitoli, sono cento parole. Quindi io ho immaginato che nel sacchetto uno possa mettere cento parole, ci stanno, insomma, non è un peso, non è che ti porti dietro una cosa, una sacca troppo pesante. Così, metaforicamente, cento parole sono la base minima, così, per dire che conosco qualche termine. Poi non ho usato termini troppo complicati, perché poi sarebbe difficile da spiegare, perché se io parlo di archetipo immaginario, archetipale, allora dovete entrare in un'altra dimensione della spiegazione. Ho usato termini, in fondo, più tecnici, che possono essere così facilmente abbordabili, ricordabili, quindi tela, ingresso, allestimento, pennello. Poi magari, quando saremo più in avanti, semmai, entraremo più in termini molto più complicati. Tra l'altro, dovete sapere che adesso è un po' terminata questa moda, ma negli anni Ottanta, i critici d'arte italiani parlavano in critichese. Cioè, è una cosa molto, è stato un fenomeno molto strano. E voi sapete, il critico d'arte di solito scrive una recensione a un artista nel catalogo di una mostra. Tu fai una mostra, io critico d'arte e ti presento. I critici d'arte hanno cominciato a usare in Italia una terminologia assurda che non si capiva niente. Più non si capivano e più sembrava che fosse importante, perché dice, se dice delle cose che io non capisco, significa che sono stupido e che il critico è intelligente. Cioè, e tanto più il critico diceva cose assurde, tanto più non le capivo e tanto più dovevo stare zitto e dire quanto è bravo questo critico. Ma in arte non va così. In arte le cose debbano essere dette chiaramente, più semplicemente, perché questo criticese, come è stato chiamato, a un certo punto ha prodotto un disamore della gente nei confronti, della comprensione dell'arte. Perché se tu mi dici che nell'ambito dell'io che si svolge verso l'orizzonte in cui il nostro assetto emblematico si è formato verso un'istanza desomerica, cioè io non ho capito niente cosa vuol dire, quindi ho cercato di dire, ma questo lo diciamo agli amici Vittorio Sgarbi, Achille Bonitoliva, i grandi critici d'arte, parlate un po' come mangiate, cioè parlate un po' più in maniera umana, perché parlare in questi termini così disumani nell'arte non va bene. Quindi le parole dell'arte in fondo vogliono anche ridimensionare questo criticese e far sì che siano accessibili a tutti. Quello che mi sembra di capire è che ci sia da una parte l'obiettivo di fornire agli apprendenti strumenti per poter essere turisti con alcune conoscenze in più, sia di quello che trovano quando vanno al museo o a visitare un evento, un parco, un parco archeologico, che anche di capire un po' meglio, di poter parlare un po' meglio delle opere che vedi, poterle descrivere, poter avere un minimo di vocabolario tecnico, di repertorio lessicale tecnico per poterle descrivere, descrivere meglio. Io le volevo chiedere, perché mi pare che non si è prenotato nessun altro, le volevo chiedere solo una cosa sulle attività, perché siamo passati rapidamente sulle pagine che lei ha chiamato eserciziario e mi chiedevo, così non le ho ripeto, non le ho guardate con attenzione perché ho avuto il materiale solo stamattina, quindi non ho fatto in tempo ad analizzare o a guardare con attenzione niente, ma mi chiedevo con quale criterio sono stati pensate queste attività. Perché c'è il dialogo, poi lei ci ha fatto vedere che ci sono le parole evidenziate in rosso, che sono quelle a cui gli apprendenti dovrebbero, sulle quali dovrebbe concentrarsi la loro attenzione e poi in queste attività si riprendono queste parole che poi si spiegano alla fine nel glossario. Sì, qua devo dire, devo ringraziare, perché poi non l'ho fatto ancora, le mie due collaboratrici, due assistenti, che sono una Chiara Barbato, che è una storica dell'arte, che lavora da anni con me nella stesura di grandi testi, e l'altra invece Gaia QQ, che forse qualcuno di voi ricorderà perché suo padre QQ fu un grande storico della lingua, e ancora tuttora non è morto, dell'Università di Perugia, e fece una delle prime pionieristiche attività didattiche con il metodo QQ, ecco a Gaia, che è una sinologa, poi tra l'altro esperta nel mondo cinese, ho chiesto invece di costruire questa parte, di piattaforma, quindi io la parola la do, io sono stato inventore del fumetto, Chiara Barbato l'ha costruito come storica dell'arte insieme a me, Gaia l'ha formulato sotto forma di eserciziario, e al termine io e di nuovo è Chiara, abbiamo fatto diciamo il lemmario. Quindi avremmo dovuto chiamare anche Gaia e Chiara, che ci avrebbero detto. Sì, la prossima volta sentite loro. No, vabbè, scherzo, va benissimo, anche così, poi in realtà facendo un po' di esplorazione, lo strumento digitale in particolare offre una serie di possibilità. È sempre così e adesso stavo guardando, cioè si può dirigere immediatamente alle attività, si possono fare annotazioni, si possono aggiungere elementi, si possono togliere elementi, si possono sentire le tracce audio, lo stavo un po' guardando. Se volete lo possiamo anche fare insieme, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo. Vedete come funziona, riusci a vedere? Vedete lo schermo? Sì, ok. No, allora aspettate. No, perché vedevo qui ci sono, appunto, si possono fare annotazioni, qui poi c'è la traccia audio, potremmo anche provare a sentire se volete, così vediamo di che si tratta, lo scopriamo tutti. Devo solo condividere il suono. Volete provare? No, se siete contrari, protestate. Vediamo se funziona. allora, come faccio? Perché non va? Che devo fare? Aiutate? Isabetta, posso aiutarti? Secondo me devi cercare la traccia audio dove vedi il simbolo su questa pagina a destra, il simbolo della cuffia. Correa e Pilar sono una coppia di nazionalità argentina, felicemente sposata da 20 anni. Lui è un affermato manager del settore delle comunicazioni. Lei è un'insegnante di letteratura con la passione per la pittura. Ok, va bene, dura due minuti e ventitré, forse un po' troppo, ma comunque abbiamo visto che allora l'inizio è una descrizione quindi di quello che si troverà poi nel libro e poi probabilmente ci saranno i dialoghi. domani. Bene, se qualcun altro vuole intervenire, qualche altra curiosità? Non vedo nessuno, vediamo, sono delle cose. Ah sì, c'erano quelli che mi... Vabbè, il libro l'abbiamo visto, adesso vediamo quindi chi lo vince e che può quindi continuare a esplorare, poi magari anche condividere le sue esperienze di esplorazione con gli altri. C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa prima di passare al sorteggio? Sulla mita, tu ti stai preparando per il sorteggio? Sì. Sei già pronta? Sì. Ok, mi pare di non vedere nessun altro che vuole intervenire, magari nel frattempo riusciamo a... Dove c'è scritto? Sì, dimmi. Devo solo sapere chi non partecipa? Perché c'è la... Ecco, Gabriele. Gabriele non partecipa, io non partecipo, ovviamente il professore non partecipa. Ok, no, era questo. Forse dove leggo qui, Corso Italiano, se ci fosse il nome, Corso Italiano, chi è? Corso Italiano? Aeda. Se ci fosse il nome della persona sarebbe meglio perché così poi potremmo identificare nel caso vincesse di chi è, però nessuno mi risponde. Vabbè. Chiamiamolo. Magari però potremmo sentire un attimo anche il professor Mollica che è uno dei... Volentieri se il professore io... C'è ancora in linea Mollica? Credo che è la più grande... Se il professore volesse, io ho rispettato il fatto che non volesse parlare, ma se il professore vuole parlare, certo, volentieri. C'è ancora perché non lo vedo più. C'è, c'è, c'è. Ho seguito con molto interesse la conferenza di Alessandro e devo dire che è ideale questa fusione di atti, di dialogo, di prosa, perché ovviamente il dialogo è superiore alla prosa per trasmettere informazioni. Ma io sono un discente visivo, quindi ho apprezzato molto i fumetti che sono nel 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 testo. Alessandro, ho trovato la conferenza molto molto bella, anzi devo confessarti che avevo un appuntamento durante quest'orario e l'ho cancellato proprio per ascoltarti e è stata un'ottima decisione, guarda. Ringrazio, mi hai detto da te che sei l'autorità mondiale sulla lingua. Tra l'altro noi stiamo chiamando, invitando il professor Mollica perché da quando abbiamo aperto la nuova piattaforma digitale Dante Global, che appunto è dedicata all'insegnamento e alla formazione dei docenti e l'insegnamento dell'italiano, vorremmo che Mollica fosse uno dei nostri illustri collaboratori con i suoi giochi linguistici che sono quelli sì davvero straordinari, caro Antonio. Poi magari un giorno ne parleremo anche dei tuoi giochi linguistici, ma intanto tu cominciala così a collaborare con noi, abbiamo uno spazio che abbiamo già dedicato per te. Un saluto ai colleghi brasiliani perché anni fa sono stato in Brasile e devo dire che mi manca. Sì, ecco, ma beh, appena sarà possibile di nuovo, magari organizziamo qualcosa. Io non sono mai stato in Brasile purtroppo, devo dire che il Brasile l'ho visto sempre passando sopra in aereo andando in argentina e sono molto dispiaciuto che in vent'anni non mi è ancora capitato l'occasione di scendere invece in Brasile che è un paese straordinario, per tanti versi molto più simile all'Italia che in altri paesi, quindi è una fratellanza brasiliana. Voi immaginate tutta la stagione, non so anche per noi italiani, della mia generazione, ma Vinicio, De Moraes, sono stati per noi dei moduli di fratellanza col Brasile. Poi noi romani che abbiamo ospitato l'ottavo re di Roma che è stato Falcao. Certo. Napoletano hanno avuto Maradona, noi romani abbiamo avuto l'ottavo re di Roma che era Falcao. Certo, mica cose trascurabili, cose serissime. Facciamo passare la pandemia, speriamo che passi davvero e poi possiamo ricominciare a pensare a scambi reali, fisici e non solo virtuali. Per ora ci accontentiamo di questi, intanto così abbiamo potuto conoscerci, cosa che non sarebbe stata possibile fino a poco tempo fa e questo intanto ci permette di stare insieme in qualche modo. Anche a noi, perché poi qui sono rappresentate diverse città brasiliane, non stiamo tutti nello stesso posto, quindi anche noi stessi non ci saremmo incontrati probabilmente con tanta facilità se non ci fosse stato questo strumento. Quindi per un'associazione come la nostra, un'associazione brasiliana, di professori di italiano, che quindi riunisce professori di tutto il Brasile, dal nord-est al sud, con migliaia di chilometri di distanza, anche per noi sarebbe stato difficile, quindi dobbiamo effettivamente essere grati e soddisfatti del fatto che adesso ci sia questo strumento e poi appunto sempre però considerando che un incontro in carne ed ossa non si potrà mai sostituire con un incontro virtuale e quindi speriamo che presto si possa tornare a vedersi anche dal vivo, prendersi, prendere un caffè insieme, per un bel bicchiere di vino non sarebbe male. Va bene. Allora, sì. No, ma prego, prego, prego. No, quello che volevo suggerire, perché ovviamente c'è un sacco di gente che non ha potuto assistere alla conferenza del professor Masi e mi domando, visto che lei l'ha registrata. Sì, la metteremo online. No, se metterla su YouTube o qualcosa del genere, o anche allo stesso tempo sul sito della Dante, affinché altri insegnanti, non solo brasiliani, ma di tutto il mondo, possono seguire questa conferenza che è molto, molto importante, ricca di informazioni proprio. certamente, ma noi abbiamo registrato proprio con questo obiettivo, di mettere poi, di mettere poi. Mi avete preceduto allora, ecco. Di mettere poi la registrazione, noi abbiamo un canale YouTube della dell'associazione e poi possiamo passare il link anche alla Dante perché lo distribuisca e lo diffonde. Certamente, certamente. Io volevo associarmi un po' alle parole del professor Mollica, ma soltanto per una piccola chiusura, un po' amara, devo dire. Un po' amara per me perché io ringrazio molto i professori che hanno seguito e voglio ricordare a tutti i professori, ma per farci forza, che loro rappresentano la vera ossatura mondiale dell'insegnamento linguistico italiano all'estero. Molto spesso non vengono, vengono lasciati così soli, in prima linea, a lottare con i loro strumenti, fanno un lavoro straordinario, in condizioni a volte molto disagiate. Io mi sono molto battuto per questo perché la mancanza dell'aggiornamento, della formazione, di incontri come questi che invece sono per loro molto importanti. Ecco, va un grazie di cuore a tutto il corpo docente mondiale perché davvero fanno un'opera straordinaria. Voglio ringraziare davvero molto e per questo voluto che anche nella nostra piattaforma fosse dedicata a una sezione, una stanza, delle tre stanze proprio alla formazione perché c'è bisogno che si ricordi che il docente è la parte sostanziale di tutto il prodotto. Se noi pensiamo che il docente debba eh lavorare così per grazia ricevuta dal signore sbagliamo. Se noi invece diamo al docente la possibilità di aggiornamento, lo seguiamo, lo ascoltiamo perché poi sono loro che ci dicono come stanno cambiando le cose. Allora questa non è demagogia la mia. Attenzione, io l'ho detto anche ieri alla sette, sono stato intervistato in Italia e ho detto che anche nella scuola italiana il docente spesso è lasciato così ai bordi, ai margini, come se in guerra io lasciassi i soldati soli, senza direttive, senza ad affrontare un nemico che è più più sovrastante, più forte. Quindi questo è un appello, professore, sentitevi davvero importanti perché voi siete la parte centrale di tutto il sistema, il resto sono chiacchiere, il resto sono chiacchiere perché i fatti li fate voi. Punto. Questo volevo dire e questo ci vengo a dirlo. Benissimo, grazie. Effettivamente è vero che siamo lì in a proposito della della dell'immagine di di guerra che lei ha causato, siamo sempre noi lì in prima fila, al fronte, no? Perché siamo noi che abbiamo il contatto diretto con gli studenti, che sappiamo anche quali sono i loro bisogni, le loro necessità e che effettivamente molte volte, soprattutto nel caso dei docenti, noi all'università abbiamo anche la doppia funzione di essere ricercatori e al tempo stesso docenti, quindi comunque abbiamo questo doppio ruolo di formatori e docenti, però molte volte in altri casi effettivamente c'è poca attenzione per tutto questo, per questo grande numero di persone che si dedicano quotidianamente a questa attività e che sono i veri e propri diffusori della 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 lingua e della della cultura italiana, molte volte amanti e appassionati che fanno questo lavoro perché ci credono. Allora forse possiamo a questo punto salutarci e visto che la vogliamo mettere su YouTube interrompere la registrazione e passare al sorteggio. Va bene? Allora io intanto saluto chi guarderà la registrazione dopo dai noi